Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria. Il 9 marzo del 2020, esattamente un anno fa, il Presidente del Consiglio Conte annunciava il primo lockdown. Vediamo cos'è cambiato in un anno in cui il Covid è entrato nelle nostre vite. Sempre in tema di emergenza sanitaria, appunto sulla situazione dei principali comuni del Vesuviano. Aumentano ancora i contagi a Torre del Greco con un nuovo boom ieri e 6 decessi attestati ieri a Torre Annunziata. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha trovato e sequestrato oltre 100 tonnellate di rifiuti speciali nel porto di Napoli. Veniamo ora alla politica cittadina con un consiglio comunale monotematico a Torre del Greco sulla situazione dell'ospedale Marisca. Lungo intervento del Vice Presidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino. Tante invece le polemiche dei consiglieri comunali. Grande assente, soprattutto la dirigenza dell'ASL e la consigliera regionale, Loredana Raia. Questo ed altro nei nostri servizi. Il 9 marzo del 2020, esattamente un anno fa, il Presidente Conte annunciava il lockdown totale. Una data simbolica, un discorso drammatico che il Premier tenne fra commozione e decisione, che per tutti gli italiani rappresenta l'inizio dell'incubo Covid. Il virus faceva già paura, ma pochi lo percepivano. Non importava che il 31 gennaio lo stesso Conte avesse firmato lo stato di emergenza. Nemmeno che a febbraio il Comune di Codonio ed altre zone erano state blindate in quarantena. Il virus è in Cina, il virus lo prende solo chi è incosciente e va in Cina, solo chi torna in Italia, solo nel nord. Questi commenti tipo, questa la sicurezza, che molti nutrivano, pensando che il proprio orticello non sarebbe stato invaso. Il 9 marzo del 2020, dopo la prima vittima accertata in Italia, mentre i ricercatori cercavano ancora di capire cosa effettivamente fosse il virus, Conte mostrava la realtà. Le vite di tutti sono state stravolte, le certezze. Ogni cosa è stata messa in discussione, dalle abitudini al lavoro, dagli affetti, alla libertà che abbiamo sempre dato per scontate. Per mesi separati da amici, parenti, amori che incontravamo ogni giorno, realtà quotidiane come palestre o semplici centri commerciali, chiusi. Ogni momento di svago, di aggregamento, ogni spettacolo, intrattenimento, cancellato. Senza considerare il dramma di chi ha dovuto cambiare radicalmente il modo di lavorare in quello che ormai abbiamo accolto come smart working, e la tragedia invece di altri che, un lavoro, l'hanno perso definitivamente. Canzoni dai balconi per darsi coraggio, tv sintonizzate alle 18 per ascoltare il bollettino e la protezione civile, pizze fatte in casa per poter ancora concedersi qualche sfizio culinario, videochiamate per sentirsi ancora uniti, anche se distanti. Persino la potente immagine del Papa sotto la pioggia a pregare in una San Pietro deserta. Tutto questo non è bastato. Quello che abbiamo perso il 9 marzo è il tempo come l'abbiamo sempre conosciuto e vissuto. Abbiamo perso sorrisi e abbracci, sicurezza e stabilità. Qualcuno ha perso i suoi progetti ed i suoi sogni. Altri, troppi, hanno perso la vita. Perso persone care, senza nemmeno la possibilità di poter dir loro addio. Ieri l'Italia ha raggiunto quota 100.000 morti a causa del Covid. Il doppio di quelli di AIDS, 34 volte quelli del terremoto dell'Irpinia, 50 volte quelli del Vaillon, 300 quelli dell'Aquila. Ma se della pandemia e dei suoi effetti devastanti parliamo ogni giorno, non bisogna dimenticare mai gli effetti collaterali. Basti pensare ai tanti ragazzi che l'anno scorso hanno svolto la maturità e salutato per sempre la scuola senza compagni, senza scherzi in classe, senza feste. Oppure ai tanti bambini venuti al mondo in quest'anno in ospedali blindati, con nonni che ancora oggi possono ascoltare i loro primi vagiti solo per telefono. Il 9 marzo non è certo iniziata la pandemia, anzi, forse il lockdown è arrivato troppo tardi, ma è il momento in cui il virus è entrato nella vita di tutti, non a livello biologico, ma sociale, economico e umano. Forse andrà tutto bene se alla fine di tutto ricorderemo ancora come eravamo prima di indossare una mascherina. Nuovo boom di contagio a Torre del Greco. Nella giornata ieri sono stati certificati 115 casi di positività al Covid-19, di cui due in regime ospedaliero e di restanti in isolamento domiciliare. Certificate anche 76 nuove guarigioni. Comunicato ancora un decesso, si tratta di un uomo di 85 anni. A Torre annunziata sono 50 i nuovi casi di contagio a Covid-19, a fronte i 277 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 18,05%. Al contempo si registrano anche 66 guarigioni e, purtroppo, 6 decessi di 4 uomini e 2 donne, rispettivamente di 80, 83, 78, 74, 81 e 69 anni, verificatisi però nel periodo che va dal 22 febbraio al 3 marzo. Sono 774 i cittadini attualmente positivi. Da giovedì 4 a domenica 7 marzo sono stati invece 622 i cittadini di Ercolano sottoposti a tampone. Dai dati all'ASL risultano 177 i nuovi positivi a fronte ai 95 nuovi guariti, 7 dei quali avevano riscontrato la cosiddetta variante inglese. In totale al momento sul territorio si registrano 537 i cittadini positivi, 13 dei quali con variante inglese, mentre quelli guariti sono in totale 2.398. A Portici, invece, sono iniziate al Palazzetto dello Sport in Via Farina le vaccinazioni alle persone sopra gli 80 anni che si sono prenotate sulla piattaforma regionale. Sono 215 i cittadini di Castellammare di Stabbia risultati positivi al coronavirus il 6, 7 ed 8 marzo. Sono stati lavorati complessivamente 1.437 tamponi, 31 invece i guariti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro all'interno del porto 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. I finanziari del secondo gruppo, nel contesto di specifiche attività di analisi di rischio e di osservazione del territorio, hanno individuato nell'area portuale partenopea una zona di circa 600 metri quadri in cui erano ammassate tonnellate di rifiuti speciali, parte dei quali classificabili quali pericolosi. Il sito di stoccaggio illegale si trovava in un piazzale utilizzato da una società per sosta e movimentazione di container. Sono state inoltre individuate dalle fiamme gialle, anche grazie a sopralluoghi effettuati dal personale dell'ARPAC di Napoli e dell'area tecnica dell'autorità di sistema portuale del Martireno Centrale, perdite di fluidi provenienti dai mezzi pesanti che sono confluiti nel fiume Pollena che affluisce direttamente al mare. Al termine l'intera area è stata sottoposta a sequestro e il responsabile, un 50 tene di Pozzuoli, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale e attività di gestione, deposito e stoccaggio di rifiuti non autorizzata. Il Covid deve essere l'occasione per potenziare la sanità. La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, è intervenuta questa mattina a Torre del Greco in occasione del Consiglio comunale monotematico sull'ospedale Marisca. L'idea di un Consiglio monotematico in cui venissero coinvolti anche altri livelli istituzionali come noi consiglieri regionali è la strada giusta perché intorno a tematiche quali il diritto alla salute di un bacino di un milione di abitanti, qual è quello dell'As Napoli 3 Sud, io credo che non esistano steccati politici e che dobbiamo unire le forze. Su questo territorio purtroppo c'era una carenza strutturale anche precedente al Covid. Su circa 2.500 posti eletto programmati la metà sono all'interno del privato, in cliniche private spesso piccole, prive di pronto soccorso e anche tutti i restanti 1.250 non sono stati realmente attivati. Quindi capite come lo smantellamento dell'ospedale maresca diventa ancora più grave in un contesto di carenza dell'offerta sanitaria dove qui nessun ospedale può rispondere a ictus, infarti e trauma, i cittadini devono recarsi per forza a Napoli dove gli ospedali scoppiano di Covid. Il Covid deve essere l'occasione per potenziare, purtroppo invece si sono chiusi 6 posti letto, disattivati 6 posti letto di terapia intensiva, il pronto soccorso è chiuso, stiamo aspettando le terapie subintensive che saranno pronte in estate, così dicono quando probabilmente l'emergenza sarà scemata. Dobbiamo fare squadra, al di là degli steccati politici, solo un'azione di pressing può portare al raggiungimento di risultati concreti. L'ospedale di Torre del Greco deve tornare nella rete dell'emergenza e l'ASL deve dare risposte ad istituzioni e cittadini. Bisogna tenere alta l'attenzione perché Torre del Greco e il maresca deve tornare a essere uno spoc nella rete dell'emergenza. Va riattivato il pronto soccorso, qui c'è un servizio di emergenza psichiatrica, la legge prevede che ci debba essere il pronto soccorso. Vanno aperte le degenze di gastroenterologia, che è un'eccellenza di questo territorio, le degenze oncologiche. Va utilizzato un presidio preziosissimo, lo ripeto, non soltanto per la città di Torre del Greco, ma per tutta l'ASL Napoli 3 Sud. Questa mattina grande assente proprio l'ASL. Guardi, purtroppo anche in Commissione Sanità, da tempo noi non abbiamo la possibilità di interloquire con i vertici delle diverse ASL, inclusa la Napoli 3. Capisco che il momento è grave, che i direttori generali sono alle prese con la terza ondata, quindi lo posso anche giustificare, ma io auspico che ci debbano, non ci possano, ci debbano essere momenti di confronto, vanno date risposte ai rappresentanti istituzionali, come quelli che oggi erano presenti in Consiglio Comunale, ma vanno date risposte soprattutto ai cittadini. Un momento complesso nella gestione dell'emergenza sanitaria, ma non si muore solo di Covid. Esattamente, è stato questo il senso del mio intervento odierno. Nella proposta originaria che io avevo trasmesso al direttore dell'ASL, c'era quella di salvaguardare Torre del Greco e il Maresca dal Covid. Se si è scelto di fare Bosco Trecase e ospedale Covid, si potevano trasferire le specialità disattivate a Bosco Trecase con il relativo personale qui al Maresca, facendone un ospedale Covid-free che poteva continuare ad assistere i pazienti che purtroppo oggi si ammalano, continuano ad ammalarsi di tutte le altre patologie antecedenti al Covid. Invece abbiamo liste d'attese enormi, pazienti con patologie anche gravi, penso a quelli oncologici, che non stanno ricevendo l'assistenza dovuta, e presidi sanitari pressoché dismessi. Questo è un momento importante per la città di Torre del Greco. Noi abbiamo una grande opportunità oggi, quella veramente di far entrare nella programmazione proprio dei Recovery Fund, di far entrare anche per la sanità il nostro comio Agostino Maresca. È l'ultima opportunità che abbiamo e dobbiamo coglierla, e quindi dobbiamo veramente intraprendere un tavolo con la Regione, con il Governo magari, che ben venga. Quello che noi chiediamo oggi con il monotematico è ripristinare un pronto soccorso, quindi con terapia intensiva e rianimazione, quindi un pronto soccorso con i crismi che veramente ci vogliono per un ospedale, proprio per le emergenze e urgenze ordinarie. Aspettavo una risposta dalla Regione. Dispiace non vedere il Direttore Generale Sosto qui presente, perché noi abbiamo bisogno comunque, la città ha bisogno di risposte, e non avere la presenza del consigliere regionale, Loredana Raia. Oggi leggevo dell'ultimo spot che ha emanato, quello di fare un punto nascita alla Maresca. Lo trovo veramente assurdo, perché evidentemente la signora Raia non sa che per aprire un punto nascita ci vogliono mille parti all'anno. e con un decremento dei nascituri, questo credo che sia veramente irrealizzabile. In questi giorni abbiamo scoperto che i posti letti di terapia subintensiva arriveranno in estate, periodo nel quale ci auguriamo che sia ormai superato il peggio di questa pandemia. È una giornata particolare, speriamo anche che DIA metta in moto un meccanismo virtuoso, perché dal 2008 a oggi invece è un meccanismo di una condizio sine qua non, finalizzata alla chiusura definitiva dell'ospedale Maresca, cosa che stiamo vedendo. L'ASL ovviamente non può che non essere assente, perché è colpevole e deveato di aver chiuso l'ospedale. Grande assente questa mattina al Consiglio Comunale monotematico sull'ospedale Maresca di Torre del Greco, l'azienda sanitaria locale, che ha fatto pervenire un documento per spiegare come il presidio è stato riorganizzato nella gestione dell'emergenza sanitaria. Un documento letto dal Presidente del Consiglio Comunale Gaetano Fruglio, che fa il punto al momento sui servizi erogati dall'ospedale di Torre del Greco. Tra le intenzioni dell'azienda, a breve quella di realizzare un percorso pulito che consenta l'utilizzo del blocco operatorio nel vecchio padiglione, al fine di ampliare gli interventi chirurgici. Non sono mancate le polemiche con la stilo che ha attaccato la consigliera regionale Loredana Raia o il consigliere Piccirillo, che ha proposto uno sciopero della fame in mancanza di risposte da parte dell'ASL. Iniziare uno sciopero della fame qualora la minima richiesta non venga accettata. Iniziare uno sciopero della fame in questa sede e protrarsi fino al tempo utile, fino a quando non daranno risposte ai cittadini. Chiediamo 20 giorni affinché ripristinino, almeno inizino a ripristinare, il pronto sottorso. Non credo serva lo sciopero della fame, ha commentato il consigliere Nello Formisano. Il nostro interlocutore è la regione Campania. Io devo dire, e lo dico con profonda amministrazione, che ho trovato un'esposizione della vicepresidenza che ha raffinato di un equilibrio straordinario. Lei ha indicato quale deve essere la strada. Noi dobbiamo avere ben chiaro chi è l'interlocutore e a quale dobbiamo parlare. Se parliamo qua, tanto per intenderci, facciamo un po' di coragare, facciamo qualche litigata, ma si può fare su altri argomenti. Io proporrei che sulla salute, sulla sanità, che essendo stato il mio problema di costruzione lavorativa, prima di iniziare poi l'altra vita, non si scherzasse, sulla sanità non si deve scherzare. Non credo sia la scelta della fame, ma io credo in pochi. Dopo l'intervento della vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, sono seguiti quelli di altri consiglieri regionali, tra cui Michele Schiano, ex presidente della Commissione regionale Sanità. Si deve fare di più e noi teniamo moralmente il dovere di doverci dedicare affinché qui venga ripristinato un ospedale con tutte le sue caratteristiche, ma soprattutto venga un ospedale che dia salute. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.